Grazie a tutti. Scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti.